Un calvario nel calvario, nella locre della sanità, non è soltanto un'emergenza continua, ma un incubo costante per i cittadini. Dopo lo stop ai ricoveri, all'unità operativa di ortopedia, arriva un altro duro colpo per l'ospedale di Contradaverga, la direzione sanitaria, chiude il reparto di radiologia per la gravissima carenza di dirigenti medici e radiologi. E i pazienti vengono dirottati in via eccezionale alla struttura sanitaria di Polistana, la nota dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria è datata 23 agosto, una criticità a cui la direzione sanitaria ha tentato senza fortuna di fronteggiare con una disposizione di servizio risalente al 20 dicembre del 2017. Tutte le risorse mediche e di specialità assegnate in ogni servizio di radiologia ospedaliera ed extraspedaliera dovranno concorrere alla copertura dei turni del servizio di radiologia presso il presidio ospedaliero di Locri. Il piano B purtroppo non è andato a buon fine in quanto nessun dirigente medico o radiologo si è reso disponibile alla copertura del turno di servizio odierno. Senza riscontro positivo anche il tentativo di reperire personale medico allo scopo anche da altri presidi ospedalieri, ogni mossa ha dato risultato negativo per garantire la continuità assistenziale in un servizio pubblico essenziale. Di fronte ad una strada senza vie di uscita la scelta è stata obbligata, non ci sono soluzioni alternative se non la chiusura, disposizione che si sarebbe voluta evitare ma che infine appare come l'unica possibile. Una brutta notizia per la sanità locridea e soprattutto per i tanti pazienti e per questo motivo da ieri i pazienti necessitanti di prestazioni radiologiche urgenti e indifferibili saranno trasferiti nell'ospedale di Polistena. Una decisione obbligata presa in via eccezionale che rappresenta l'ennesimo duro colpo per il territorio. È stato un agosto nero per l'ospedale di Locri, un agosto che ha visto più volte il primo cittadino Giovanni Calabrese denunciare pubblicamente sui social le gravi criticità della sanità nel comprensorio della Locride, problema che il sindaco Locresse ha portato anche all'attenzione del ministro degli interni Matteo Salvini durante la visita di Ferragosto a San Luca e ieri su Facebook l'amministratore locale è tornato all'attacco. Ospedale sempre più allo sbando, provvedimento della direzione sanitaria, niente radiografie e tacche dalle 14 alle 8. Paralizzata l'attività di tutti gli altri reparti, ha scritto Giovanni Calabrese sul suo profilo Facebook con una nuova incredibile, assurda e vergognosa disposizione della direzione sanitaria, scriva ancora il primo cittadino. Il reparto di radiologia rimarrà aperto solo dalle 8 alle 14. Per il resto della giornata e della notte dalle 14 alle 8 c'è l'ospedale di Polistena o gli ambulatori privati per chi ha la possibilità economica. Fermiamo questi responsabili che stanno completando la distruzione già avviata da altri all'ospedale di Locri. La chiusura dell'unità di radiologia ha scatenato in queste ore una serie di malcontenti e critiche anche sui social. Siamo sempre più abbandonati, c'è una sanità di serie A e di serie B tra le tante esternazioni in rete, ormai una vera e propria emergenza nella Locri e in estate la situazione diventa sempre più drammatica.